allarme secca nei fiumi del territorio tanto che il servizio tecnico regionale dopo aver fatto una serie di controlli chiude i rubinetti sospensione dei prelievi dai corsi d'acqua presenti nel territorio che nel caso della provincia di limini riguarda il fiume marecchia da ponte santa maria maddalena fino alla foce dal torrente uso e i suoi effluenti al torrente conca il provvedimento che non comprende gli utilizzi d'acqua per il consumo domestico e l'abbeveraggio degli animali d'allevamento è stato inviato con una nota informativa a tutti i comuni interessati per tutto il resto le acque dei fiumi sono off limit previste anche multe per chi continuerà a prelevare acqua nonostante il divieto sanzioni amministrative a partire da 103,29 euro fino a 1032,91 euro ai sensi della legge regionale numero 3 del 21 aprile 99 le disposizioni resteranno in vigore fino all'emissione di un nuovo atto di revoca il compito di far osservare quanto disposto da tale provvedimento è stato affidato agli agenti accertatori del servizio tecnico di bacino alla polizia municipale e provinciale al corpo forestale dello stato e alla forza pubblica